Sindaco Castelli, l'importanza dell'educazione stradale, l'importanza dell'attenzione alla mobilità nei comuni, di cosa si parla oggi? Si parla del lavoro conclusivo di quattro anni di attenzione che lancia il Ministero competente hanno dedicato a questa grande questione culturale, democratica che affligge ogni comune, ovvero dare indicazioni e assumere decisioni che vadano nel senso di preservare la persona umana da quelli che sono i rischi della strada. Noi abbiamo come comuni italiani imboccato una strada senza esitazione, di accettare anche il rischio di qualche impopolarità pur di individuare in questo bene, in questo valore della tutela stradale, un valore fondamentale. Certo non è facile perché sappiamo quanti sono stati i condizionamenti che sono impressi sulle nostre finanze che ci portano spesso a non essere all'altezza di manutenere il sistema stradale così come sarebbe necessario e giusto. Però è proprio questo il momento della crisi, il momento in cui, e questo è l'esito della riunione di oggi, abbiamo voluto produrre una sorta di manuale di buone pratiche per consentire a ogni amministratore un orientamento possibile rispetto a scelte che spesso sono impopolari ma che vanno nel senso di salvaguardare il bene più imprezioso, la vita, la persona e quindi il diritto di ciascun pedone ad esempio di non essere travolto se un filato della strada passa di là. I sindaci devono fare anche questo.